Incappucciati con una mascherina sul volto, si sono intrufolati dalla finestra che dà su Viale Romagna i tre malviventi che nella notte tra venerdì e sabato scorsi hanno fatto irruzione nella pizzeria da Corrado a Fano. Dopo aver colpito più volte con una pietra questo vetro antisfondamento, la lastra si è staccata dall'infisso e i ladri sono entrati. Poi però alle 3.30 è scattato l'allarme e tempo pochi secondi il titolare Corrado Mondelci si è collegato con le telecamere e ha visto i malintenzionati che si aggiravano nel suo locale, così è partito all'istante per recarsi sul posto, ma di loro nessuna traccia. Io abito a Stravetere, quindi tempo una mezz'ora, tre quarti d'ora per venire, intanto ho avvertito i carabinieri che sono venuti subito e venendo su ho incontrato tre persone in centro che camminavano, tre ragazzetti e lì per lì non gli ho dato molta importanza perché ero più preso a venire qui in modo veloce per vedere cosa era successo, però dopo riguardando bene i video delle telecamere credo proprio che quei tre ragazzetti erano le persone che sono venuti qui a farmi visita. Hanno rubato qualcosa all'interno? Fortunatamente no, anche perché non lasciamo niente da rubare, c'era il cassetto della cassa aperto o vuoto, quindi quando è entrata una persona lì dentro ho visto che non c'era niente e poi appena è scattato l'allarme è fuggito subito, l'allarme è scattato proprio subito, ha fatto in tempo a fare qualche passo. Hanno provocato solo dei danni, è riuscito a quantificarli? Solo dei danni, ancora no, sto aspettando dei preventivi, adesso abbiamo messo in sicurezza il locale anche se c'è la vetrata danneggiata, sto aspettando dei preventivi per le riparazioni e oggi andrò a fare denunce ai carabinieri in modo tale che anche dei video delle telecamere se succede da qualche altra parte che riescano a trovare.